e ben a tutti ragazzi qui voi volete in questo nuovo commentary oggi siamo ritornati su Black Ops 2 per questo gameplay dell'amicia squadra e su Overflow lo so sempre a stessa mano vengono vedere le partite lì tra poco poco per da dirvi l'arma è un po' più del paro del gioco non venite un po' più del gioco con quel fucil d'assalto che se il secondo non è un arma più nel Paracal of Duty, anche per Paracal of Duty la CA o la MP7 o la scelta, spero non faranno mai delle armi del genere questo è la parola più importantissima del Warcraft 3 la classica un'integra vita nel 94 silenziatore caricatore rapido arma secondaria, la B23 con caricatore aumentato poi Warcraft 1, quindi due perk che sono il flessibile e il fantasma poi altri perk, acciaio e geniere comunque ora dopo aver presentato la partita vorrei parlare di quello che vuole dire, parlerà questo gameplay c'è quindi, insomma, un po' confrontarsi nel dire secondo me quello che penso di Call of Duty 2 e Cops 2 e come va per adesso ho fatto tanto video su questo mettiamo subito un semplice impatto perché l'ho fatto? perché il gioco, quando viene una vera partita l'ho visto sul cinema, quindi nessun problema anche però adesso non sto qua a dire ricordo anche il regista di tutta una storia credo fare un sacco di gire colpito il registratore cose assurde e adesso non sono sicuro di far delle prove comunque si dice che forse potrebbe aumentare qualche millesimo in un'arrivo delle immagini che su Call of Duty qualche millesimo rappresenta l'informazione tra la vita e la morte tra l'altro a questo qua, anche perché adesso non commettere ma Call of Duty la cosa non è strana è che, ok comunque, ti fa bestemmiare saltare i nervi sempre però ti diverte per quanto capita in queste partite dove anche se non fanno risultati assurdi ma comunque fai delle belle serie non è pieno di camp e comunque i giocatori cioè che ti fanno lanciare anche i gruppi di lunga 100 metri ti diverti secondo me anche un po' questo pano per cui ci fanno motivi per cui comunque uno lo prende anche se adesso comunque i punti dico è tutto uguale secondo me ecco, forse fra Val of Duty e Val of Duty ci potrebbe anche stare una via che mi costruivo guarda, Val of Duty e anche a volte mi sa poco perché non c'entra niente che non ho ancora cambiato il comportamento delle amici è un po' mai diverso ricordo, Val of Duty che alla fine gli amici è un po' di lì quali sono un po' di cambiare ah, mi troppo di cambiare abbastanza forti che per cui ho detto sono quelli più ricordati nel primo grado al 3A proverso il tagli 25 scopri poi ci saranno altri all'alba vabbè mi chiamo SMC poi al 27 mi sembra già usato e poi parteranno con troppo per esempio S o Scala c'è quindi non sa fare soltanto i programmi lì ma c'è un po' di anche è il principale motivo per cui uno lo fa se non lo fa niente però a questo punto si deve ancora pensare avete sentito non ci sono né Stefan Kaos né a Popomì so che Stefan Kaos ha ancora occupato questo creeper mentre se ha braggato mi ha ancora i creeper si scoppiare ancora no e a Popomì ha avuto lo stesso punto che ha avuto Stefan Kaos ha portato la sfortuna quello che volete voi fu con tutti i miei morti quindi da pochi morti quindi comunque non ci sono nel fare un padre solo però dopo l'ho parlato qua si lo so come il break se voglio almeno non lo aggiungo non farlo soprattutto perché e a Popomì non c'è però anche Stefan Kaos c'è ancora assurde comunque ho da questo ed è solo un po' introdurre come avete visto che ha cambiato la sigla non ha ancora di finiti dovrebbe fare a Popomì ma secondo me si è scordato e ho detto ma non va ancora a farla ha capito perché non lo vuole fare e vabbè lasciamo stare per gustavo un minuto adesso però vorrei accennarvi a quello che mi ha ratta perché come sapete adesso novembre e dicembre e sono tutti i giochi i giochi per il prossimo episodio ci sono tutti i giochi per il prossimo episodio per il prossimo episodio mancherà in quanto 6-7 giorni all'uscita dalla pietra di parte il fil 4 poi la parte il fil 4 per il caso non ti costa credere ancora a vedere se prenderlo oppure no insomma siamo pieni di giochi che adesso può rincessare sempre i 4 uscirà la PlayStation 4 la quattro di una per l'anno spero forse ci ha come anno adesso vedrò comunque subito parliamo di quello che succederà ma questo confrò sarà l'ultimo video di Mecloops 2 che non lo faccio più adesso passiamo infatti adesso voglio fare un live e un cuoccio di sesso su Best Company 2 Battlefield 3 quello lì non si vedeva e soprattutto questo va per accederà proprio quello che succederà dopo cioè un sacco penso di far il più live possibile su Battlefield 4 che non credo da leggere subito a questo punto aspettavano due mesi quindi non c'erà no come mi dice dopo questo sia tutti i agenti recentitati che cercheranno qua perché si sa dovrà fare qualcosa lo faccio una nana comunista ma fa niente fatto lo stesso sentiate la cera forse non lo usavo su punto di anche il video è stata la finia quindi adesso chiudo qua lo sono andato un riservo e l'ho già detto fa niente quindi sono bella da agosto e ci vediamo al prossimo video questa volta su Battlefield 4 di 2